Salve a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi vi spiego come trovare l'incandesimo della meteorite di Astel molto semplice, dirigetevi in questo punto della mappa, molto facile arrivare qui perché io ho fatto una guida su come sbloccare questa terra attraverso il montacariche, molto semplice, quindi la trovate sul mio canale Entrate in questa galleria Poi dovete farvi veramente un bel viaggio qua sotto perché è molto lungo, quindi la porta sta proprio alla vostra destra quindi non potete aprirla perché dovete aprirla dall'altro lato, quindi dobbiamo scendere qua sotto e farci tutto il giro Una volta arrivati a quella porta dobbiamo uccidere questo boss, Astel stelle di tenebra Guardate un po' che faccia di merda che c'è, veramente inguardabile Quindi è molto semplice da uccidere, una volta fatto fuori vi darà quell'incandesimo come potete vedere ecco qua, uno e due, ed è morto Ecco i meteorite di Astel, è molto semplice Andiamo anche a provarli Vediamo un po' Guardate che catastrofa Bello eh, anche se mi ha consumato tutta la mente E già è molto costoso, molto molto costoso Se il video vi è stato utiliissimo lasciate like e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao Ciao Grazie a tutti.